Parte domani in Abruzzo la campagna vaccinale di prossimità riservata ai piccoli e piccolissimi comuni delle aree interne della Regione. L'ho annunciato nel giorno in cui sono state somministrate 13.000 dosi di vaccino l'assessore alla salute Nicoletta Verì specificando che in questa prima fase l'iniziativa riguarderà alcuni centri delle province di Chieti e L'Aquila dove sono presenti la maggior parte di questa tipologia di comuni con popolazione inferiore e 500 abitanti. Poi si prosegue anche nelle province di Teramo e Pescara. Nello specifico le vaccinazioni saranno eseguite dai team vaccinali militari messi a disposizione dalla struttura commissariale del generale Figliolo che ha esteso il programma già predisposto per le isole minori anche ai paesi montani in cui vivono soprattutto anziani e dove la viabilità per raggiungere gli hub vaccinali è più difficoltosa. I team si recheranno nei centri in una giornata prestabilita e sottoporranno a vaccinazione l'intera popolazione residente che avrà manifestato il proprio interesse alla somministrazione. Per quanto riguarda la vaccinazione dedicata ai maturandi di cui ha parlato il presidente Marco Marsilio nel corso dell'ultima cabina di regia sono attese per il 2 giugno 77 mila dosi di Pfizer. Si vuole cominciare presto per evitare disagi e ostacoli nel periodo degli esami.